Compagnia di mister Allegretti alla fine di questa dura sconfitta quant'è la rabbiatura per non usare altri termini? Ma perdere non è mai bello però ci può anche stare oggi non abbiamo non abbiamo fatto bene soprattutto nei particolari e abbiamo perso quindi guardiamo avanti fra quattro giorni abbiamo un'altra partita siamo sempre lì perciò bisogna anche accettare alle volte la sconfitta anche se amara ma fa parte del gioco. Sono più i demeriti nostri o i meriti del mestrino? Forse gli avversari sono stati bravi nell'approfittare in alcuni nostri svarioni come per esempio nel terzo gol che poi ha attiso la partita un calcio d'angolo a nostro favore che poi appunto si è capovolto e quindi dopo da lì il contropiede. Ma è una squadra che aveva caratteristiche ben precise hanno giocato bene noi abbiamo sofferto li abbiamo ripresi due volte poi quando commetti errori e li paghi come li abbiamo pagati oggi ci sta di perdere. Una classifica che comunque siamo sempre lì è logico l'Ambrosiana ha vinto quindi ci ha risorpassati però nulla da buttare adesso appunto come dicevi si può già dimenticare quella sconfitta domenica contro il Castelnuovo ti aspetti qualcosa di più forse dai tuoi ragazzi? Ma fondamentalmente mi aspetto che diano sempre il massimo oggi dare il massimo non è bastato e quindi la sconfitta non si dimentica perché altrimenti fa parte del gioco ok ma bisogna prenderla nel verso giusto cioè fare autocritica riguardarsi cercare di migliorare capire che nonostante eravamo davanti fino a ieri non nel campionato non è ancora vinto perciò bisogna avere la pazienza di lavorare e di cercare sempre di migliorare.